Noi sappiamo che arriveranno 250 delegazioni internazionali a Milano, stiamo lavorando perché queste delegazioni rappresentano una opportunità per il territorio e in più anche nel sistema di riprende. 20 milioni di visitatori sono previsti attesi a Milano, l'attratività turistica del nostro territorio è un valore aggiunto sul colisolo, stiamo definendo un programma di iniziativa che coinvolge il sistema di riprende. È un'occasione importante, le risorse umane che possono la nostra territoria rappresentano il futuro della nostra regione, abbiamo le un'occasione importante, è un'occasione importante, è un'occasione importante. Grazie. 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 Grazie.